salve ragazzi benvenuti in questo nuovo video oggi farò la recensione del galaxy s3 terminale android che ho comprato anche perché l'iphone 5 costa veramente troppo secondo me quindi questo terminale è monta android 4.0.1.4 anzi credo ice cream sandwich a breve verrà aggiornato a jelly bean monta un processore quad core da 1.4 gigahertz e un giga di ram la versione americana non so perché invece integra un dual core con 4 con 2 giga di ram comunque il terminale pesa il terminale ha un display da 4,8 pollici con la risoluzione 1280 x 720 pesa 133 grammi ed è alto 136 millimetri virgola 6 largo 70,6 e profondo 8,6 quindi veramente poco più dell'iphone il display è un super amoled hd è veramente veramente bello fotocamera frontale da 1,9 megapixel fotocamera posteriore da 8 megapixel con flash led e altoparlante il modello che ho preso è pebble blue pebble blue anzi è da 16 gigabyte ma con lo slot micro sd e potete arrivare ad altri 64 gigabyte di di hard disk di memoria è un terminale 3g lte per quanto riguarda i materiali si è plastica o meglio è policarbonato adesso vi faccio vedere vedete come si piega è fatto proprio apposta batteria da 2100 miliampere slot micro sim e slot micro sd lo schermo è veramente veramente bello possiamo andare a adesso io ho messo questo sfondo ma posso andare a mettere non so uno sfondo animato mare profondo e qua queste sono le mie schermate della home ne ho messe solo 4 ma posso metterne di più con questo gesto posso andare a aggiungere delle schermate di home la barra il centro notifiche simile a quello dell'iphone ma con più opzioni posso anche disattivare varie opzioni come gps wifi c'è naturalmente l'assistente vocale com'è il tempo oggi quindi va discretamente queste sono le applicazioni la schermata è divisa in applicazioni widget in cui ci sono tutti i widget che posso inserire sul le mie schermata home andiamo a vedere le applicazioni predefinite abbiamo il game hub dove ci sono delle dei giochi di google che di samsung che non sono un granché poi abbiamo il video hub dove posso andare a noleggiare film e teoricamente serie tv per lo meno non in italia eccolo qui ci sono i vari i vari film poi c'è la samsung apps che sarebbe una specie di concorrente del play store dove ci sono diverse diverse varie applicazioni ma insomma non si poche c'è allora questo non l'ho capito c'è questo s suggest che questa applicazione qua dove ci sono una specie di selezione dei migliori programmi per per samsung credo non ho ben non ho ben capito il senso di questa applicazione comunque e oltre a sbagliato io premio il pulsante oltre a questo abbiamo naturalmente il play store di google con tutte le applicazioni android e smemo e splanner smemo è una specie di note dove possiamo anche andare a disegnare lo posso far vedere eccolo qua come vedete posso disegnare oppure posso andare a scrivere poi ci sono le classiche applicazioni registratore, orologio, playbooks sarebbe ibook di ios e la rubrica svoice, music hub è dove posso andare a scaricare canzoni dallo store samsung mappe mappe in realtà è una cosa strana non sono le mappe di ios ma è più google earth quindi sì è molto più simile a google earth che a google maps comunque non so perché ah di poi che abbiamo c'è la bella classica google talk c'è lettore video lettore musicale la cosa bella del lettore video è che se riproduco un video posso andare a vederlo e intanto lavorare e non si rallenta assolutamente questa è veramente veramente bella come cosa ah in più abbiamo il lettore musicale qui ci sono tutte le mie la mia libreria musicale poi magari vi farò sentire la qualità dell'audio ma avete già potuto apprezzarlo con il video poi c'è il browser internet integrato ma io ho scaricato google chrome e altri programmi come chat on è una specie di i message suppongo e all share play che serve a condividere i vostri file eccetera c'è probabilmente quella lì c'è la radio in più però servono come come per gli altri cellulari servono le cuffiette per farlo funzionare devo dire che come cellulare non è male certo forse ios ha un pelino di fluidità in più in alcuni in alcune circostanze però con l'elasticità che ha android penso che sia un difetto non veramente così pesante come può sembrare google chrome è praticamente identico alla versione per per sa per ios così chiudo l'app esattamente identico ho scaricato un'applicazione che purtroppo per ios è impossibile perché apple non permette questo tipo di modifiche ma si chiama swift key è praticamente una tastiera è una tastiera che corregge i vostri errori ma non come la correzione automatica di di iphone che fa abbastanza schifo ma è veramente veramente fatta molto bene come vedete scrive e scrive già le cose le predice quindi se premo play se io premo spazio lui già scrive ciao e scrivo scrivo con lui mi corregge come va come stai eccetera eccetera veramente ma che ho sbagliato come vedete mi è che ho scritto lui mi correggi i miei e comunque veramente e oltre a questo questa applicazione mi permette anche di utilizzare la dettatura vocale ciao sto testando la dettatura vocale sul mio samsung galaxy s3 quindi veramente veramente precisa e come ho detto però bisogna pagarla non è la pre-definita per android per galaxy per quanto riguarda la dimensione potrebbe scoraggiare alcuni perché comunque un terminale grandino che 4,8 pollici non è non è pochissimo quindi insomma è abbastanza grande usarlo tutto con una mano sola un po difficile quindi a volte magari la uso con due mani faccio così è più semplice effettivamente forse un po troppo grande credo che la dimensione del galaxy s2 sia migliore da questo punto di vista però a livello di prestazioni non c'è paragone quindi galaxy s not è veramente troppo grande ma quella è una specie di ibrido tra smartphone e tablet per quanto riguarda la plasticosità dei materiali si è plasticoso è vero però non è male al livello visivo a livello visivo è veramente molto bello certamente in caso di caduta si può sfracellare molto di più rispetto ad iphone perché essendo non in metallo se casca la plastica si rompe poi infrange il vetro per questo ho comprato una custodia una custodia in gel ho messo anche il la pellicola sul sul display quindi niente questo è tutto ragazzi non so davvero cosa dirvi di più come ho detto mi ci trovo discretamente bene il prossimo anno il prossimo anno si vedrà si vedrà cosa fare se comprare l'iphone 5s oppure continuare con questo ho preso questo anche perché praticamente l'ho preso a costo zero a breve mi arriverà il galaxy tab 2 gratuito che provvederò subito a rivendere se non lo sapete ho messo in vendita il mio iphone 3gs su ebay allegherò il link dell'asta a questo video quindi niente saluti a tutti al prossimo video volevo aggiungere due cose questa è la confezione del telefono e integrate ci sono le cuffiette che sono quel modello quello ear in ear in e gli adattatori il problema della cuffia qual è è che su ios premendo il tastino centrale potete attivare siri su android no questo è il pulsante centrale come vedete c'è il bilanciere qui e qui il pulsante il pulsante si lo premo parte la musica se io tengo lo tengo lo premo due volte come dovrebbe essere non parte nulla anzi passa la canzone successiva quindi non non so non non so davvero perché non abbiano integrato il controllo dell'assistente vocale via cofia perché è comunque una cosa comoda a livello di batteria più o meno stiamo lì come vedete adesso sto al 70 per cento e sono le 6 e 3 quarti quindi sì diciamo che più o meno le prestazioni la batteria sono abbastanza simile a quelle idee di iphone con il pregio che io posso anche comprare una batteria più potente oppure comprarne due sostituirla in caso la batteria primaria si sia completamente scaricata piccola addenda saluti a tutti